Benvenuti al consueto appuntamento con 98 News, apriamo il nostro telegiornale naturalmente Parlando di politica non c'è nessun centrodestra diviso, la coalizione è unita, c'è solo una piccola frangia di fuoriusciti L'ingegnere Grazia Cosentino, intervistata nel corso della puntata di ieri di QG Talks, per la prima volta entra nel vivo delle questioni politiche che fanno da sfondo a questa fase prevoto Parlando anche dei veleni e delle polemiche di questa campagna elettorale, ascoltiamo Io voglio la normalità anzitutto, tutto il resto poi viene a seguire Quindi le prime cose da fare sono rimettere la città in piedi Inizia a delineare il perimetro di quello che sarà il suo percorso in campagna elettorale L'ingegnere Grazia Cosentino, che è intervistata nel corso della sesta puntata di QG Talks Per la prima volta entra nel vivo delle questioni politiche che fanno d'ampio sfondo a questa fase preelettorale Il centrodestra dei partiti ha scelto di puntare sulla soccorsa e Fratelli d'Italia ha fatto il passo indietro con la rinuncia al capogruppo Vincenzo Casciana Hanno però preso le distanze diversi big del voto che si collocano in quell'area E' per questo che i primi paletti la Cosentino li mette proprio a delimitare la sua area Un centrodestra che secondo l'ingegnere è unico e unito Non mi pare che il centrodestra non abbia una unità totale Si parla infatti di un fuoriuscito, uno, due, non so quanti sono Però tutto il centrodestra ha dimostrato l'unitarietà Quindi non parlerei di due centrodestra Si parla di un centrodestra unito e di una frangia di fuoriusciti dal centrodestra Quello del candidato donna, prima in assoluto per la poltrona di sindaco in città E' un tema sul quale hanno insistito le segreterie dei partiti alleati Una soddisfazione per la stessa Cosentino Una bella soddisfazione più che responsabilità La responsabilità la vedo sul ruolo che mi appresso e mi auguro di poter ricoprire E' quella la vera responsabilità La Cosentino torna a parlare anche della questione sollevata dal leader MPA Raffaele Lombardo Proprio nel corso di una convention tenutasi in città Quella dei candidati dei governi ombra dell'SRR Intuisco a cosa voleva riferirsi lui Ma come ho già detto prima, queste dichiarazioni velenose Lasciano il tempo che trovano e vengono rimandate ai mittenti Passaggio fondamentale anche sui diktat Che avrebbero tenuto fuori l'attuale assessore Romina Morselli Dalla coalizione del centrodestra La coalizione è inclusiva Però si è posta un limite Che è quello della discontinuità con l'attuale governo della città E non mi pare che l'attuale assessore Morselli Possa rappresentare una discontinuità con l'attuale governo Mentre invece con gli altri consiglieri E rappresentanti dello stesso gruppo Non c'è stata alcuna Alcun diktat Alcuna chiusura Però è ovvio che un attuale Rappresentante del governo Cittadino Non può trovare Libero accesso Tra virgolette In una coalizione Che si sta ponendo come discontinuità Al governo greco Tutto qui La Cosentino la sua linea programmatica La concentra su un target Sul quale ha lavorato per 36 anni L'ex dirigente municipale infatti Ritiene che la città possa ripartire Se il municipio tornerà a essere efficiente Tutta la mia esperienza Verrà messa a disposizione Della città E dell'amministrazione Della macchina burocratica Anche perché c'è da risolvere Il grandissimo problema del dissesto È un grandissimo problema Ma ce n'è uno ancora più grande Che è il dissesto Della struttura organizzativa Dell'ente E quello come si risolve? Si risolverà anche quello In un modo o nell'altro Basta far funzionare bene Le poche risorse Che si hanno Sicuramente ci sarà da spingere A proposito Della metafora che ho appena usato Riguardo alle assunzioni Di nuovi dirigenti Di nuovo personale E sicuramente Quello sarà il primo passo da fare Altrimenti La macchina Non può rimettersi In moto E sempre a proposito Di schieramenti Per queste amministrative Non hanno ancora Uno schieramento Di riferimento Autonomisti esponenti Della giunta greco In vista delle amministrative Stanno valutando Una soluzione comune Che non è ancora Però stata concretizzata Sentiamo Potrebbe essere Un patto politico Garantito da chi Ancora nella giunta Del sindaco Lucio Greco Ma sta comunque valutando Il progetto da appoggiare Per le amministrative Il modello Almeno per loro Rimane quello Delle regionali Dello scorso anno Che li condusse A presentare Sostenere la candidatura All'ars del dirigente medico Rosario Caci Gli autonomisti Anime Che si sono riviste Nell'attuale amministrazione Stanno valutando Ieri era prevista Una riunione Che pare comunque Non si sia tenuta I lombardiani Hanno aspirato Fino all'ultimo A sbancare il campo Del centro estra ufficiale Con un loro candidato A sindaco Soluzione che ha trovato Spazi diventati Fin troppo angusti Un'eventuale ricandidatura Del sindaco Lucio Greco Non pare tra le priorità Ne sembrano più essercene Le condizioni Alcuni pezzi Dell'MPA consigliare Ovvero il capogruppo Diego Iaglietti E Giuseppe Guastella Ora più vicino Al movimento Rinnova La scelta l'hanno già fatta Collocandosi In alleanza per Gela A sostegno Del candidato a sindaco Salvatore Scerra Altri esponenti Di rilievo del partito E l'assessore Romina Morselli Stanno cercando Di mettere Nero su bianco Un appoggio ufficiale Per un candidato A sindaco condiviso Potrebbe essere L'ex assessore Terenziano Di Stefano Con i civici Ha fatto parte Della stessa amministrazione Comunale Che ancora impegna I lombardiani E l'assessore Morselli Lo scorso anno Erano tutti insieme A perorare la causa Di caci alle regionali L'assessore Morselli Che non intende Sottostare a veti Che arrivano Ad alcuni esponenti Del centro estero ufficiale Che non l'hanno mai vista Politicamente di buon occhio Non rinnega per nulla Il rapporto Con l'assessore regionale Di Forza Italia Marco Falcone E ha più volte spiegato Che lo appoggerà Alle europee A loro volta Proprio per le elezioni europee I lombardiani Con in testa il leader Hanno praticamente formalizzato L'accordo con Forza Italia Potrebbe essere Una ragione in più Per muoversi insieme Alle amministrative Ma non nel centro estero ufficiale Dell'ingegnere Grazia Cosentino Il presidente Del consiglio comunale Salvatore Sammito In settimana Rispetto all'ipotesi Di un avvicinamento L'assessore Morselli Ad alleanza per Gela Non ha ammesso Nessun ostacolo I contatti però Ci sono stati E continuano ad esserci Frequenti Proprio con Di Stefano L'ex vice sindaco Non cala alcuna restrizione Neppure agli autonomisti Con i quali si è formato Politicamente Tocca a loro A questo punto Decidere come muoversi Il consigliere comunale Del Movimento 5 Stelle Virginia Farruggia Ha superato il primo turno Della selezione interna Condotta dal partito Per individuare i candidati All'eropee Di inizio giugno Farruggia è stata inserita Nella circostruzione Isole Sicilia-Sardegna Ed è risultata Tra i più votati Aveva dato la sua disponibilità A misurarsi Nella competizione Il secondo turno Nesso è fissato Per il prossimo 22 aprile E la votazione sarà proprio Su base circoscrizionale Sicilia-Sardegna Saranno tre uomini Altre tante donne A poter accedere Alla lista ufficiale Del Movimento Non c'è stata Nessuna risposta Da parte del governo regionale All'interrogazione presentata Dal parlamentare I sud di Chiamanord Ismaele Lavardera Sulla vicenda Di Salvatore Comandatore L'ex guardia fuochi Licenziato È mai reintegrato Nonostante una sentenza Del tribunale Il deputato Aveva chiesto L'intervento Del governo Schifani Che però Non si è presentato In aula Vediamo Il governo regionale Non si è fatto trovare pronto Davanti all'interrogazione Sulla vicenda Dell'operatore guardia fuochi Salvatore Comandatore Per mesi L'operai ha ottenuto Un sit-in fisso Davanti Palazzo e Giustizia Ha rivendicato il diritto Ad essere riassunto Dalla società Archimede Che alla fine Il giudice gli ha concesso Ad oggi però Non c'è stato nessun reintegro Il parlamentare Ars Di sud di Chiamanord Ismaele Lavardera Si è rivolto Al governo regionale Presentando un'interrogazione Sul caso Ma non ha ottenuto risposte E in aula Ha mostrato Tutto il suo disappunto Alle due interrogazioni Che io ho fatto Una sull'avviso 23 Che è il comparto lavoro E una Di quel povero lavoratore Che a Gela È stato Come dire Licenziato Perché semplicemente Si è rifiutato Di sversare Di sversare in mare O dei liquidi Diciamo che Potevano essere In qualche maniera Come dire Lesivi per Ovviamente Insomma L'ambiente Mi rendo conto E dico Ma perché L'assessore Rispetto a questo tema Che sulla rubrica Lavoro Non ha potuto dare Risposta Al buon comandatore Che ancora oggi Non è rientrato In servizio E questo è il modus operandi Ecco l'ordine dei lavori Presidente Se ci sono le interrogazioni Da rispondere Io pretendo Che a quelle interrogazioni Venga data risposta Anche perché arrivano Dopo mesi e mesi e mesi Del nostro lavoro Ed è svilente Mortificante Rispetto a questo Parlamento Non ricevere il rispetto Che noi meritiamo Lo scorso gennaio Dopo una lunga battaglia giudiziaria Per il guardafuoki Salvatore comandatore Per anni Alla dipendenza di Archimede La ditta che opera Nel porto Isola Eni Il tribunale aveva deciso Per la reintegra Nel posto di lavoro Ad oggi però Nulla è cambiato E Salvatore non ha ricevuto Alcun rimborso Né tantomeno È stato reintegrato al lavoro I magistrati avevano disposto Che lo stesso comandatore Avesse diritto A ritornare in servizio Al porto Isola Escludendo ogni eventuale Irregolarità Anche rispetto Alla percezione del TFR Che invece Archimede SRL Riteneva avesse percepito Senza titolo Il giudice Vincenzo Accardo Aveva così deciso Per l'illegittimità Del licenziamento E aveva riconosciuto Il diritto al risarcimento Dei danni In favore del dipendente Compresi i contributi Previdenziali e assistenziali Dal giorno del licenziamento E fino a quello Di effettivo reintegro Reintegro che oggi Non è arrivato La questione dunque Non è chiusa E probabilmente L'atto a Lars Sarà riproposto Cambiamo decisamente argomento E parliamo Della Salone del Libro Che oggi ha aperto Ufficialmente i battenti Presso la Scuola Verga Neanche il maltempo Inaspettato È riuscito a attenuare La grande festa Che per due giorni Coinvolgerà tutti gli studenti Dell'Istituto Comprensivo Diretto da Vivian Aldisio Che ospita A partire proprio da oggi La terza edizione Della Salone del Libro C'eravamo anche noi È stato inaugurato Stamattina Il Salone del Libro All'Istituto Comprensivo Giovanni Verga Il plesso di via Salonicco È stato totalmente Addobbato per l'occasione Che ha ospitato Le autorità civili E gli studenti Degli altri istituti Sicilianità e Mito Saranno il focus Dell'evento culturale Dal titolo La parola ai libri Si va avanti negli anni Chiaramente si cresce Il Salone del Libro Di quest'anno È un salone diverso Perché comunque Si svolge tutto all'interno Abbiamo valorizzato Tutti gli spazi possibili Della scuola Ma al di là Della valorizzazione Diciamo logistica Quello che mi fa dire Mi fa pensare Costatare Che il Salone sia cresciuto Intanto è la partecipazione Della cittadinanza Delle scuole del territorio Degli studenti Degli ex studenti Dell'istituto Che sono il migliore feedback Positivo Che noi possiamo registrare Il fatto che i ragazzi In autonomia Si siano già Autoregistrati A partecipare Ai nostri momenti Di presentazione Dei libri E non solo Cresce la proposta Cresce l'offerta Come è molto maturata Devo dire Il lavoro È maturato il lavoro Di preparazione Di organizzazione Didattica Del Salone del Libro Non è una vetrina Non è un luogo In cui solo Si può godere Di spazi accoglienti E di momenti Costruttivi Sicuramente è un lavoro Di preparazione Che comincia Molto ma molto Tempo prima Nelle aule E fra i banchi Noi promuoviamo La lettura Promuoviamo la lettura In senso stretto All'interno Delle nostre aule Nel piano Dell'offerta formativa Dell'istituto Il Salone del Libro Non è neanche l'epilogo È uno dei momenti È uno dei passaggi Importanti Didattici In cui gli alunni Sono in parte Protagonisti Di quei laboratori Che vengono proposti Loro dagli insegnanti Ma che vengono costruiti insieme Quindi non è solo un momento Di presentazione del libro E di incontro con l'autore È un evento È un'organizzazione variegata Di momenti formativi E laboratoriali Che mi fa dire Di essere veramente Contente Insieme a tutto Lo staff E dei docenti In questo periodo È un fiorire di attività Nelle scuole Io sono sempre in giro Però non potevo Non valorizzare Quest'occasione Perché la lettura È al centro Del nostro interesse educativo Siamo molto emozionati Come potete vedere Siamo in pieno fermento Tra poco si taglierà il nastro E si darà il via A questo prestigiosissimo evento Di cui l'Istituto Verga Si onora appunto Di essere istituto promotore Il Sonore del Libro Per noi rappresenta Un'attività di estrema importanza Perché Introduce A noi ragazzi Nel mondo della lettura E Aiuta Agli insegnanti E a noi Ragazzi A conoscere storie Degli autori E che cosa li ha spinto A scrivere un libro Gli studenti Hanno letto in classe Anche i libri degli autori Che saranno ospiti all'evento Noi abbiamo preparato Alcuni di noi Nelle nostre classi Esporremo le nostre recensioni Sui libri che abbiamo letto Il libro che ho preferito Si chiama Fino a quando La mia stella brillerà Che parla Della stella Di Elena Segre Di quando è stata Rinchiusa Nei campi di concentramento Delle cose Che hanno vissuto Appunto gli ebrei Mi è piaciuta molto Perché riesce a rappresentare La storia E anche nelle sofferenze È riuscita a trovare Lei una Una luce di speranza Che l'ha portata Per sopravvivere Ad uscire Dai campi di concentramento Il salone Giunto alla terza edizione Ha avuto una madrina D'eccezione La scrittrice Ragusana Costanza Di Quattro Direttrice del teatro Di Donna Fugata Mi sento onorata Invece di essere Madrina di questo evento È straordinario Come una scuola Riesca A organizzare A mobilitare Un sistema così Grande Così elevato Un'organizzazione Così perfetta Tutto alla ricerca Della cultura Perché poi sostanzialmente Parlare di libri Significa parlare di cultura Quindi credo che In questo momento Qui in questa scuola Algera All'istituto Verga Si stia concretizzando Il vero valore Dell'istituzione scolastica E quindi quella Di trasmettere il sapere Le attività laboratoriali I workshop E gli incontri con gli autori Sono aperti a tutta la cittadinanza Dico sempre che la cultura Mi ammazzerà Per me queste sono le cose Quelle che Le attività Che mi danno Forza E speranza E speranza E come sempre ho detto Non è perché Si spera di guadagnare Di arricchirsi Perché con la cultura Non è possibile Ma la cultura Ha una ricchezza Immensa E la cultura Gela Che potrebbero essere La cronaca Sparò contro L'abitazione La famiglia Della famiglia Della ex fidanzata Rischiando di colpire Un'altra giovane Arrivata adesso La condanna Per tentato omicidio Nei confronti Di Kevin Canotto I particolari In questo servizio Sparò per uccidere Il collegio penale Del tribunale Preseduto Dalla giudice Miriam D'Amore Alla Terevani Castro E Martina Scuderoni Ha riconosciuto Le contestazioni mosse Alla giovane Kevin Canotto Sei anni e nove mesi Di detenzione Questa la pena imposta Gli affronti Di una richiesta Della procura Di tredici anni E quattro mesi Canotto Impugnando una pistola Che non fu ritrovata Gli investigatori Fece fuoco Contro l'abitazione Dei familiari Dell'ex fidanzata In Contrada Zai Per l'accusa Rischiò di colpire Una ragazza Che era nell'immobile A sua volta legata A rapporti di parentela Con l'ex Ci sarebbero stati Rancori E il tentativo Vano di riallacciare Rapporti A spingere Canotto A quell'azione Per la procura Si trattò di fatti gravi Commessi per uccidere Uno dei familiari Dell'ex fidanzata Accortosi Di quanto stava accadendo Si avventò A bordo della sua auto Verso Canotto Che si diede alla fuga L'imputato Sparò a due cani Che erano della famiglia Secondo la sua versione Si sarebbe trattato Di una risposta Ad una precedente Aggressione subita L'ex fidanzata E i suoi familiari Non avevano alcuna intenzione Di riprendere i rapporti Canotto e il difensore L'avvocato Davide Limoncello Nel corso Dell'istruttoria Di battimentale Hanno ribadito Più volte Che gli spari Erano per intimidire E non per uccidere Il legale Ha escluso la sussistenza E l'ipotesi Di tentato omicidio A Canotto Attualmente detenuto Venivano attribuiti Ulteriori reati Dallo stalking Alla disponibilità Dell'arma E fino alle lesioni Il collegio Non ha riconosciuto L'aggravante Che veniva posta Dai PM E' stato disposto Il risarcimento De danni Per la giovane E per i familiari Parti civili Assistiti dagli avvocati Giuseppe Cascino E Maria Cascino Così come per il partito Animalista Italiano E per l'Associazione Nazionale Per la tutela Degli animali Con i legali Giussi Cauchi Roberta Pagano E Giovanna Licausi Tutte le parti civili Hanno insistito Rispetto alla condanna Del giovane I legali Dell'ex fidanzate Della sua famiglia Hanno ribadito Che c'erano stati Diversi episodi Di violenza Con aggressioni Da parte di Canotto Fino al culmine Degli spari E un gelese Di cui non sono state fornite La Generalità E' stato arrestato a Roma Nel corso di un'attività Di controllo Condotta dai carabinieri Complessivamente Sono dodici Le misure applicate Durante l'attività di servizio Il presunto spacciatore gelese Di quarant'anni Era alla guida Della sua auto Quando è stato fermato Da una pattuglia Del comando stazione Carabinieri di Roma Talenti Dopo la perquisizione personale L'ispezione è stata estesa All'autovettura A bordo della quale I militari Hanno rinvenuto Dodici dosi di cocaina Già pronte per lo spaccio Altri due indagati Sono finiti in manetta Perché fermati a bordo Dei rispettivi veicoli E trovati in possesso Di sostanze stupefacenti L'imprenditore Rocco Palmeri E i suoi familiari Sono stati assolti Anche in appello I giudici di secondo grado Non hanno accolto Il ricorso della procura Gli veniva contestata L'accusa di intestazione fittizia Per due aziende al servizio L'assoluzione in primo grado Era stata pronunciata Lo scorso anno La stessa decisione È arrivata oggi In appello Per l'imprenditore Rocco Palmeri E per i suoi familiari Dorotea Palmeri Concetta Palmeri E Rocco Palmeri Del 1952 L'inchiesta si concentrò Intorno ad una presunta Intestazione fittizia Di beni L'imprenditore Per l'accusa Avrebbe continuato A gestire due aziende Nel settore delle carni E dell'autotrasporto Attraverso i familiari Considerati semplici Prestanome In primo grado Il collegio penale Il tribunale accertò La prescrizione Per i capi di accusa Legati ai periodi Dal 2010 Al 2013 Per il resto L'assoluzione Venne pronunciata Con la formula Perché il fatto Non costituisce reato L'assoluzione È stata impugnata Dalla procura Ma la corte d'appello Di Caltanissetta Al termine del procedimento Ha emesso Un'adesione favorevole Agli imputati In primo grado Inoltre I giudici Avevano disposto La restituzione Di quanto in sequestro Gli imputati Sono rappresentati Dai legali Flavio Sinatra E Fernando Vignes L'inchiesta partì Da altre verifiche Patrimoniali Rispetto alla posizione Dell'imprenditore Rocco Palmeri Secondo gli inquirenti Avrebbe continuato A gestire le aziende Relativi profitti Pur essendo stato Sottoposto Ad una misura Di prevenzione Nell'ambito Di un procedimento Antimafia La difesa Ha ribadito Invece Che tutto Venne fatto Alla luce del sole Senza interferire Nelle decisioni Aziendali Per i legali Palmeri Lavorava regolarmente Rispettando i vincoli Della misura Di prevenzione Hanno confermato Che non ci furono Anomalie Nei rapporti Con i familiari Nel contesto Societario E adesso purtroppo Una notizia triste È venuto a mancare Oggi Mario Turco Storico imprenditore Locale Avrebbe compiuto 82 anni Il prossimo 3 maggio L'impresa Che portava il suo nome È stata tra le prime operare All'interno della raffineria Nei primi anni 60 Fu dirigente E presidente Della squadra di calcio Al Terranova Che vinse il campionato Dilettanti Della Lega Sicula Tra il 67 e il 68 Fu anche presidente Del Chivanis Nel 1993 È stato imprenditore Dile nel settore Delle costruzioni pubbliche A Palermo La sua azienda Ha realizzato In tempi record Gli spazi esterni Dello stadio Renzo Barbera In occasione Dei mondiali Del 1990 Il tribunale Di Termini Merese La caserma Dei carabinieri Di Menfi Le case popolari A Corleone Nella stessa Palermo È stato tra i pionieri Del lancio E dell'allora Assindustria Lascia la moglie Rosetta Ventura I figli Carmelo Marina Miriam E Angelo E 8 nipoti A cui vanno Naturalmente Le conduglianze Della redazione Dello staff Di TeleGela E del Quotidiano Di Gela Bene Siamo in chiusura Questa era la nostra Ultima notizia Naturalmente Se volete approfondire Tutte le nostre notizie Le trovate sul sito www.quotidianodigela.it Se invece volete rivedere O condividere Tutti i nostri servizi Li trovate tutti Sulle nostre pagine social Facebook Instagram E YouTube Per il momento è tutto Vi lascio come di consueto Alle nostre previsioni meteo Grazie per averci seguito Arrivederci Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito